benvenuti sul mio canale tutto dal web io sono angeli oggi parleremo in questo video dell'ultima registrazione di uomini e donne con un colpo di scena inaspettato ossia la presenza in studio di pinuccia nel dettaglio le anticipazioni di lorenzo pugnaloni ci rivelano che i ritorni in studio sono inaspettati e uno tra questo è quello di pinuccia seppur però ragazzi giusto precisare nella veste di ospite infatti la dama di vigevano dopo essere stata cacciata via dalla trasmissione proprio per volere di maria di filippi avrà modo di riabbracciare i suoi ex compagni di avventura e presenterà in studio il suo singolo che ha inciso e pubblicato quest'estate pinuccia quindi non tornerà a far parte del parterre femminile del tronover di uomini e donne ma sarà solo la star della prima registrazione di questa nuova edizione che partirà l'11 settembre su canale 5 lei vi ricordate aveva fatto un annuncio a maria de filippi prima di iniziare le registrazioni chiedendo di poter di nuovo partecipare a uomini e donne maria ha ascoltato l'appello l'ha fatta ritornare ma pare che al momento solo per presentare la sua nuova canzone dimmi tu che cosa ne pensi lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale ciao e alla prossima